Caterina Indelicato, a Sciacca nei prossimi giorni un convegno medico per parlare di retinoblastoma. Che cos'è? Lei è mamma di una bambina che ne affetta? Il retinoblastoma è una patologia rara che colpisce bambini in un'età pediatrica e in un'età più avanzata. Più avanzata intendo dire da 3 anni fino ai 7 anni perché abbiamo il completamento della retina dai 3 anni in poi. È una malattia che colpisce gli occhi e può essere sia genetica che sporadica. La genetica va a colpire entrambi gli occhi mentre la sporadica colpisce solamente un occhietto. È una malattia molto lunga che prevede un percorso molto intenso e molto particolare per i bambini affetti da questa patologia. Lei ormai da anni convive con questa malattia insieme alla sua bambina e oggi si fa promotrice di questo convegno grazie anche a tutte le persone e soprattutto al personale medico che ha potuto incontrare in questi anni. Sicuramente. Sono 3 anni che cercavo comunque sia di poter organizzare questo convegno e oggi ci sono riuscita grazie all'assessore Sinagra, al presidente dell'associazione IGR Andrea Rosa e all'imprenditrice la signor Paola Finini che è in stretta collaborazione con la nostra associazione, appunto IGR, l'associazione per i bambini affetti ai genitori affetti al retinoblastoma. Sono 3 anni e passa che convivo con questa malattia e ho avuto modo purtroppo di conoscere questa malattia brutta e di essere in contatto diretto con medici che comunque sono all'altezza della situazione. Ci tengo tantissimo a promuovere questa malattia e far conoscere ai genitori appunto il retinoblastoma che è una malattia molto rara e che nessuno conosce. Soprattutto è difficile per i bambini siciliani avere un accesso alle cure. Lei per poter curare sua figlia ha dovuto anche fare un viaggio fino a Siena? Sicuramente. L'unico centro che comunque si accoglie e cura in maniera molto dettagliata a questi bambini è il centro di Siena, nonché l'ospedale Le Scotte, dove lì c'è la professoressa Doris che è responsabile del reparto di oculistica oncologica e sarà presente al convegno lei sabato 24 giugno. Ci sarà pure l'imprenditrice Paola Finini e il nostro presidente dell'associazione, ripeto, Andrea Rosa. L'unico centro, ripeto, è Siena e quindi l'iter è molto pesante per raggiungere Siena soprattutto perché questi bambini fanno un controllo molto ravvicinato soprattutto ai primi periodi perché ovviamente la patologia è molto pesante e sono costretti a fare dei cicli di chemioterapia crioterapia e l'intravidriale. Tutto dipende dallo stato che i bambini arrivano della malattia perché questa malattia viene comunque suddivisa in diverse categorie, a diversi stadi lo stadio A, lo stadio B, C, D e E sarebbe lo stadio più brutto di tutti nonché Beatrice era affetta dallo stadio E in entrambi gli occhi perché lei è una bimba affetta da un retino blastoma genetico nonché il suo DNA è mutato. Al di là dell'aspetto sanitario, per fortuna in Italia c'è un centro d'eccellenza come quello di Siena poi l'altra parte difficile per i genitori è quella di dover sostenere dal punto di vista economico i viaggi e tutto quello che serve senza associazioni come quella che sarà ospite di questo convegno non è possibile farlo? Infatti noi dobbiamo ringraziare comunque sia la nostra associazione, l'AIGR ripeto perché è in contatto diretto con i familiari e ci dà un aiuto molto profondo per continuare a sostenere queste cure perché non è facile vi dico che Beatrice ha un protocollo di 10 anni ovviamente non sarà a stretto contatto diretto ogni 15 giorni o ogni 40 giorni man mano la bambina cresce ovviamente i controlli saranno più lunghi però i primi periodi della loro vita come Beatrice, prendo riferimento Beatrice il primo anno e mezzo di vita di Beatrice ogni 15 giorni andavamo a Siena appunto perché a livello sanitario non c'è un aiuto a livello economico l'unico aiuto è dell'ASL dove tu vai a presentare tutta la documentazione che fa parte del viaggio presenti la documentazione e poi verrai liquidata dopo un periodo lungo ma al 50% della spesa del viaggio Quindi ricordiamolo, l'associazione è possibile dare il proprio contributo e poi il fine anche di questo convegno organizzato che è quello appunto di poter dare una mano di fatto a chi vuole verso questa associazione Sicuramente siamo in un periodo di 7.30 e quindi il mio invito è quello che la cittadinanza di Sciac ci potrebbe dare un aiuto con il 5x1000 a contribuire all'associazione che è il ricavato comunque sia del 5x1000 andrà all'associazione e in un secondo tempo la nostra associazione ci aiuterà ad affrontare i viaggi soprattutto a genitori che comunque sia non hanno la possibilità di affrontare queste spese perché le spese sono notevoli per noi siciliani arrivare a Siena è un viaggio pesantissimo perché scali di aereo, treno non è facile raggiungere Siena perché tra l'altro Siena è un punto molto difficile da poter raggiungere e quindi grazie a loro diciamo che abbiamo questo aiuto Siena è un punto difficile da poter raggiungere Siena è un punto difficile da poter raggiungere